Con me Federico De Silvestri, chef pizzaiolo, campione del mondo di pizza, la sua specialità, la pizza senza glutine. Buongiorno, oggi siamo qua, presenteremo la pizza in pala a mezzo metro senza glutine, avremo un impasto ad alta idratazione con delle farciture che adesso va di moda di rigurmeno. Allora ci stiamo sbizzarrendo un po' con i gusti. Ciò che la contraddistingue è la passione per la ricerca e lo studio dell'impasto. Sì, a distanza di anni, perché ormai questo è il quinto anno, a parte i titoli e via dicendo, però stiamo sempre ancora sviluppando il nostro impasto, dando anche alla persona celiaca di mangiare un ottimo prodotto, quasi allo stesso livello del senza glutine o viceversa. Sì, a distanza di anni, perché ormai questo è il quinto anno, a parte i titoli e via dicendo, che ormai questo è il quinto anno, a parte i titoli e via dicendo,